Le nuove Sandero, Sandero Stepway e Logan MCV cambiano pelle. Un design più moderno grazie alla nuova firma luminosa, un nuovo ambiente interno, nuovi vani portaoggetti ed equipaggiamenti, il tutto ad un prezzo sempre più accessibile. Cinque comodi posti, un ampio bagagliaio e tante funzionalità, tra cui il divano abbattibile e nuovi scomparti per l'intera famiglia. Nuova Dacia Sandero è la City Car ideale, pronta ad accompagnarti ogni giorno e ad offrirti un comfort ottimale. Le nuove luci diurne a LED sono state oggetto di un lavoro accurato e integrano nella parte anteriore quattro elementi rettangolari che rappresentano la nuova firma luminosa Dacia, studiata per rafforzare l'aspetto atletico del modello. La firma luminosa posteriore sulle nuove Sandero e Sandero Stepway è stata rivisitata nello stesso spirito, con quattro rettangoli luminosi. I nuovi paraurti, la griglia con linee cromate e i fendi nebbia, accentono la sensazione di robustezza dei tre veicoli. All'interno, nuova Dacia Sandero Stepway propone un nuovo ambiente con elementi in cromo satinato, sul quadro strumenti, sulle maniglie delle portiere e sulla leva del cambio. Un nuovo ambiente ancora più valorizzante e qualitativo. A bordo delle nuove Dacia c'è tutto quel che serve per affrontare le avventure quotidiane in città. Il sistema multimediale Medianave Evolution e relative funzionalità come l'alzacristalli a comando e regolatore limitatore di velocità. La proposta di motori e trasmissioni si amplia anche sulle nuove Sandero, Sandero Stepway e nuova Logan MCV. Per la prima volta i modelli Dacia beneficiano di un inedito motore benzina, un SCE 75 CV moderno, accessibile e ancora più risparmioso. Proposto in entry level consente di realizzare un guadagno di circa 10% in termini di emissioni di CO2 e di consumo di carburante rispetto al 1.2 da 75 CV che sostituisce. Duster si dota a sua volta di una trasmissione automatica a doppia frizione EDC. Duster beneficia di questa trasmissione con il motore diesel DCI 110 CV 4x2 Start & Stock. E per creare un autentico family feeling per tutta la gamma Dacia offre alcuni elementi stilistici comuni a Docker, Docker Van e Loggi. I tre modelli adottano un nuovo paraurti e la griglia anteriori che rafforzano l'aspetto robusto dei veicoli. Nuova EDCIA cambia tutto, ma non il prezzo.